Con il Presidente del Trentino abbiamo discusso di molti temi e ovviamente abbiamo posizioni diametralmente opposte su alcune progettualità. Una per tutte è la Valdastico. Io sono per la difesa del prolungamento verso nord della Valdastico, Trento no. Però anche dico che Valdastico Nord non è per noi alternativa alla Valciugana. Vogliamo tutte e due le infrastrutture e ci batteremo fino al fondo per sostenere queste due infrastrutture. Noi abbiamo già il project financing che procede e quindi noi lì andiamo alla realizzazione come promesso. E Rossi come è replicato? Ha confermato la posizione che è a noi nota del Trentino. Poi abbiamo altre partite sulle quali abbiamo discusso che sono quelle della sanità, sono quelle del trasporto ferroviario piuttosto che di tutte le partite aeroportuali. È stato un incontro per mettere la base su un po' di temi che abbiamo in piedi. Non ultimo quello del passo fedaio.